ciao a tutti ragazzi oggi siamo qui con una nuovissima unboxing questa volta pacco arriva da pronto view non so se si pronuncia così comunque sito polacco russo adesso si come vedete l'ho già aperto perché non mi trattenevo poi aveva un'intestazione sbagliata quindi ho dovuto aprirlo quindi non potete immaginare quanto l'hanno pressate le cose un pacco piccolo ma allora a inizio troviamo tre patch mvd la bandierina russa ok poi corpetto mega galattico non so se si riesce a capire che cazzo sia comunque pagato all'incirca 110 euro ok altro corpetto tipo chest rig qua troviamo un elastico con davanti soltanto tasche portacaricatori per ak ne contiene due per tasca quindi 10 poi tre masca non so se si pronuncia così colorazione rossa e bianca modello mvd maniche lunghe tre potete vedere maniche lunghe sono veramente pesanti quindi tengono molto caldo vabbè ne ho prese tre ovviamente per i miei amici quindi non mettete qui sotto dei commentini del tipo scusa ma perché ne prese tre ci sono ovvio qui poi tre nemettiche colorazione partisan poi c'era una sigla non mi ricordo colori veramente belli quindi tre è un tessuto molto leggero molto leggero ed impermeabile sono costate acqua è vuoto sono costate 31 euro ovvero 112 złoti se non sbaglio e niente basta questo era il pacco arrivato da front view pagato all'incirca 1200 złoti ovvero 300 e passa euro e niente iscrivetevi mollate giù un bel mi piace e commentate il mondo è il sole il mondo è un'esplice la riassonazione partisan del suo il mondo è il mondo è un'esplice il mondo è un'esplice il mondo è un'esplice Grazie a tutti.